Ho cliccato per sbagliare. Eccomi! Ho cliccato per sbaglio, forse. Ripartita! Dai! Ecco, prima stava sterminando, non la vediamo. Eh, devi soffiare. Mi si era tolta la live, mannaggia la miseria. Per tasto termino live è troppo rosso. Lol. Aspetta che ti devo fare una cosa. Vediamo se funziona. SC. Funziona! Sì, perché io devo scendere in Calabria in un certo punto. È la clip. In alto a sinistra. Quindi non sarò più con te. Dai su, Verox, racconciaci di questa clip. Quindi te li farei da solo. Perché ci... Dovrei anche starti stream da TorPS. Quello che deve fare è tutto il computer. Perché questo me lo devo portare. Dove cacchio siamo in Tratimo? No, basta. Dobbiamo tornare al livello che ci serve. No, non ho nemmeno trovato l'ingranone. Eh, ma... No, diciamo di più. Ecco. Ci mancano cinque. Uno su cinque ce la fa. Dai, portami. La comodità. No, mi è rimasto sto lama. Lama è lama, dà. Vale per i livelli del mare. E' bello che c'è il salvagente. Sì, va. Sì, va. Sì, va. Sì, va. Dai, farlo esplodere. Avviene questo brutto. Persa? Ti muovi in maniera compulsiva. Sì, va. no, è la nuova bella stelle aiuto che è successo? caramella siamo pieni di dolci let's go bomba bomba ragazzi aiuto tasso non è la mia serie non è un bacino no, devo prendere la caramella no non ricordo posso andare da qualche parte non ho detto non ho 18 potrei avvisare mangio un ombrello l'ombrello è l'unica cosa che funziona sul caldo yeah ah, tocca mi sacca una tre stessa cosa devi seguire il senso vedete che c'è sopra sopra andiamo qui a sopra calma, calma la descrizione è benissima ah, non l'avevo vista la supermanacastale la prendi pure tu stella rossa ah, non l'arriava non l'arriava dobbiamo rifarla ah, spesso tira si ma ti conviene che tira, tira, tira eh bravi bravi dovevi fare questo eh, scusa ma come sono accorta la fine mi sono accorta la fine che c'era l'ingranaggio puoi riprendere queste cose no qua 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 aiuto aspetta vai adesso per guarda non è posto di spada a tutti i livelli di fare cinque aspetta aspetta di e poi con lo con il surf a surf non lo ricordo eh, mangio top com'è che faccio la surf avendo premuto giù mi pare quindi secondo te questi questi sono top dai mi hai abbandonato devi andare giù no dobbiamo rompere qualcosa con lo spettano e qua c'è una spada ah ecco che faceva mi ricordo quello no quello vegetale che lanciava le felci non mi ricordo un altro pokemon praticamente tu sei in casa aiuto 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 non correre anche questa cosa ti ti porti a fare la lancia la lancia ci sono passata di mezzo ok ora dobbiamo correre a sinistra plush 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 salizzo 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 al momento possiamo andare a destra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in due. Siamo in due squadra. La verità. Se lo riuscissi a fare questo posto. Oh, sbagliato. Non ci sto facendo niente. Sì, perché quello si riuscita a fare questo posto. Ah! Bravo. Dove c'è quello che dà? Non c'è quello che dà? Sai che quello che dà non fateva niente. Infatti non lo voglio. Sì, è un po' bello, Kirby. No. Dai, prenderlo. Però che esplode, attenti. Non so. Dove devi far esplodere? Ah, ma... Ah, hai mangiato qualcosa? Ah, non scappa. Dai! Vedi tu se devo rincorrere. Questo è il gioco. Tu ci hai voluto giocare? Giochiamo a Kirby, giochiamo a Kirby. Ma rincorso. È un carino, Kirby. Ah, quasi arriviò la bomba. Oh. Sì, che... Ah. Niente. Sì, che... Guardi come si corre. Per due volte. Sì, che là c'è l'ingranaggio come... Sì. Sì, che ne ha l'ingranaggio come... Sì, che ne ha l'ingranaggio come... Sì, non si sa. Vediamo se c'è qualcosa. No, beh, diventano un po' per... Ah, no, però... Adesso non lo puoi trasportare. Sì, che... Perché... Sì, che è l'ingranaggio come se lo dobbiamo fare a forza. No, no, no. Ehi, mi hai rubato! a prendere la cosa si sto un po male facciamo di non morire assieme o meglio no? qua non devo morire io tu puoi morire quante volte vuoi che bello allora non vedi un cazzo un giorno ce la faremo il cibo quando serve siamo noi cibo per ruolo e c'è qualcosa che vuole a prendere? no non vedi un po' non vedi un po' vola ok ok si è attivo 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 è successo qualcosa ah c'è proprio che li stanno mangiando si è attivo devi mangiare cose nooo 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 ok due su cinque l'abbiamo presa eh ma l'ho presa sono piccata al tre è qualcosa giochiamo da abbiamo presi quattro eh ci mancano è quello lì che si è viola un po' anzi non c'erano presi di solo il boss cioè il boss non mi piace questo mondo eh perché quello dell'app ah che bello ma non mi piace scegliere qualcosa no 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 meglio il pinguino non è il pinguino non è il pinguino non è il pinguino non è un pinguino ti addio io io questo ma vuole all'infinito let's go che cosa sei che cosa sei che animale mi piace vola 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 ok prendete il coso qualche modo per recuperare vita oh di stronzo è perso no no yeah lala Come l'ala. I giorni sono, però... Stiamo aggiustando. Ehm... Era rimasto senza lì. Manca adesso. E' un'altra cosa mancante. E' la vela. E' la vela. E' un minigioco. E' un minigioco. Andiamo. E' un minigioco. inizia no 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 andiamo a vedere l'altro lato non è troppo non può entrare se si può si c'è questo ragazzi c'è ancora nuovo non c'è questo ehi no no dai dojo ninja colpisci il robotone adesso non ricordo colpisci il robotone Grazie. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.